Buongiorno, nel brano del Vangelo di Matteo oggi al capitolo 9, versetti dal 9 al 13, ascoltiamo praticamente un racconto autobiografico e infatti la vocazione di Matteo stesso, il contenuto del testo che ci viene proposto, sorprende della chiamata di Matteo, anche detto Levi, la totale gratuità con cui Gesù lo guarda e lo chiama a sé, seguimi, il verbo eperentorio è un imperativo, non lascia spazio a dubbi o attitubanze e tutto questo per una scelta totalmente libera da parte di Gesù stesso, non ci vengono dati degli elementi di merito da parte di Matteo per questa chiamata o degli altri aspetti che possono far supporre a delle intenzioni altre da parte di Gesù che non quella di chiamare a sé qualcuno che ha una vita e una storia per nulla emblematica o da mostrare come modello e viene quasi da pensare che l'unico criterio che Gesù ha, che è il criterio che orienta la libertà di Dio è quello di scegliere i poveri, gli ultimi e gli emarginati. Matteo non è un povero ma è certamente un emarginato, sta nella categoria dei ricchi dal punto di vista economico e potrà infatti offrire un banchetto per tanti altri peccatori pubblicani come lui al quale Gesù è invitato come ospite d'onore, ma Matteo è comunque un povero perché la sua condizione è un uomo che difende gli interessi dei potenti, che riscuote denaro alle famiglie probabilmente trattenendolo anche per sé e che comunque traffica con quel denaro stesso che lo rende impuro ebbene è un uomo messo da parte da un punto di vista sociale e religioso. Ecco Gesù sceglie a partire forse proprio da questo criterio, quelli che sono meno in vista, quelli che sono meno dentro le categorie e i canoni della religione dell'epoca, ebbene sono loro i prescenti da Gesù. Gli apostoli saranno uomini semplici, saranno tutti uomini che non hanno da vantare particolari meriti e particolari doti e tutto questo per Gesù diventa motivo e maniera per mostrare la completa benevolenza del Padre, il quale opera solamente a partire dalla sua misericordia, dalle viscere di compassione che lo caratterizzano. Al banchetto che Levi infatti offre al Maestro e a tutta la folla di peccatori, Gesù insegna con chiarezza e decisione questo criterio di Dio anche ai farisei e ai saducei e a quanti lo criticano per la sua scelta di mangiare con i poveri. Ebbene, Dio vuole misericordia e non sacrifici, e la misericordia è il DNA di Dio, dunque le sue scelte non possono che essere scelte orientate dalla e verso la misericordia. A noi la decisione, se lasciarci coinvolgere in questo dinamismo che può cambiare il mondo o continuare a guardare solamente ai nostri interessi per fare delle nostre scelte uno spazio di tranquillità anziché di rischio di avventura e di profezia. Buona giornata.